Furti di arbusti preziosi come l'euforbia spinosa, ma anche edera, viburno e lentisco accade nei boschi e nei giardini dello Spezzino, ma il fenomeno si spinge sino all'alta Toscana. I carabinieri forestali della Spezia nel 2017 ne hanno registrato la recrudescenza. È quanto emerso nel corso del bilancio delle attività dello scorso anno. Ci sono verificati alcuni episodi di furti nel verde, fulti di verde nei boschi, che praticamente consistono nel fatto che alcuni soggetti che provengono dal ponente ligure fanno questi raid predatori all'interno dei boschi per prelevare alcune specie arbustive, in particolare da noi l'euforbia spinosa. Quindi caricano poi queste piantine sradicate, vengono caricate su dei furgoni, vengono poi trasportate nel ponente ligure, nell'interland di Sanremo, dove vengono lavorate in determinati magazzini per alimentare poi il mercato del verde ornamentale. Sensibile nel 2017 inoltre il fenomeno dei roghi di rifiuti abbandonati abusivamente. Siamo riusciti a intervenire un paio di volte individuando i responsabili di questo abbrucciamento che sono stati denunciati però il fenomeno continua a esistere e sicuramente il prossimo anno cercheremo di implementare questo tipo di attività. Sono stati nel complesso 3823 controlli effettuati nel 2017, con multe per oltre 56 mila euro, 14 sequestri e 53 denunciati. Tra le attività il contrasto agli abusi edilizi, vista mare alle 5 terre e sull'isola palmaria, l'attività di indagine sui 68 incendi boschivi che hanno interessato 365 ettari, i roghi in un impianto di trattamento rifiuti a follo, controlli sull'agroalimentare, sulle DOP e sul biologico. In particolare un controllo sulla produzione di basilico DOP in agosto ha portato a una sanzione di oltre 21 mila euro. Il 2017 è stato anche un anno di cambiamento per voi? Beh certo, dal primo gennaio 2017 il corpo forestale è stato assorbito dall'arma dei carabinieri. Con questo passaggio abbiamo perso circa il 10% di persone perché queste persone sono transitate in altre forze dello Stato, vigili del fuoco, polizia e guardie di finanza. Abbiamo perso anche alcune competenze, come dicevo prima, nella lotta attiva sugli incendi boschivi che è passata ai vigili del fuoco e tutta l'attività di ordine pubblico che non svolgiamo più.